Andrea Arcangeli con questo film in cui interpreti Matteo una persona realmente esistita che abbiamo visto insomma un'idea, una start-up ed esplode tutto eh sì, molto simpatica la questione della vicinanza con questo ragazzo diciamo coetanei e io sono molto grato a Matteo di aver inventato questa app perché se non l'avesse fatto io non so dove sarei adesso, sotto un ponte forse addirittura Egomnia, lo ricordiamo Egomnia, sì, inventa questo che ego io, omnia tutto no nel senso mi ricordo quando abbiamo fatto il primo incontro con il regista che mi ha raccontato la storia e mi ha veramente folgorato perché mi sono chiesto, mi sono detto ok, forse è possibile allora fare delle storie interessanti anche in Italia e poi appunto in realtà non è la storia celebrativa di un sito ma è soltanto un po' un pretesto per raccontare una storia italiana vera di un ragazzo che viene da una realtà difficile che però mette in gioco tutto quello che ha e ce la fa attraversando delle zone d'ombra come dicevamo prima Senti, comunque non è il primo film che fai quindi anche tu comunque, ti abbiamo visto molto in televisione ti abbiamo già visto al cinema quindi anche tu ce l'hai fatta in qualche modo il talento basta o cos'altro ci vuole? Il fatto di trovarmi a parlare oggi di questo film mi ha dato molta fiducia nella meritocrazia non perché io pensi, però il fatto di non essere un nome nel mondo del cinema italiano ma di essermi in un certo senso quasi meritato questo ruolo mi fa essere molto contento e anche molto fiducioso però sì insomma sono contento abbiamo fatto altri film, altre serie questo è il primo ruolo veramente difficile e impegnativo che mi ha messo sotto torchio in tutti i sensi però lo rifarei altre venti volte No certo, ma quindi il talento è cos'altro? Perseveranza, coraggio, non scoraggiarsi, cosa ci vuole? Bah, vorrei dire tante cose ma molte potrebbero suonare anche come dei luoghi comuni in verità serve il talento ma non per forza nel senso ci vuole il fatto di crederci sul serio ci vuole il saper cavalcare un momento di fortuna che può arrivarti non c'è un algoritmo preciso però sono tante piccole cose che possono creare una situazione e l'importante è saperla cogliere Magari un po' anche il sostegno degli altri nel film Matteo ha il sostegno del padre, della famiglia, poi della fidanzata e quindi magari anche gli altri sono importanti per noi stessi Esatto, ed è proprio quando inizia a perdere il sostegno di tutti che iniziano a crollare le sue certezze quindi penso anche di sì bisogna supportarsi a vicenda se no da soli non si fa da nessuna parte Dove ti vedremo prossimamente? Hai già qualche programma, qualche idea? Ci sono altri progetti in arrivo però è ancora presto per parlarne Sei carismatico ti hanno detto, ti ci rivedi? Non lo so, il personaggio sicuramente è carismatico e mi è divertito tanto interpretarlo e mi piace pensare di avere anche un po' di carisma c'è una voglia, nel senso sono 23 anni se non ho del carisma adesso veramente non so quando potrei averlo quindi faccio di tutto per essere carismatico Un'ultima cosa, Matteo nel film un po' si perde diciamo che il successo come spesso accade inizialmente gli dà un po' la testa tu rischi di perdere la testa per il successo? Io non so, sono molto lucido su questa cosa posso capire che può succedere è molto facile farsi catturare dal successo, dalla fama ma in realtà quando ti rendi conto che in realtà non è nulla di più cioè nel senso la fama non è niente cioè il ritorno alle origini io per esempio le mie origini sono Pescara, l'Abruzzo, il posto da cui vengo e gli amici storici che ho da sempre e sono sempre quelli quindi in realtà quando capisci che il successo non è niente poi tra l'altro io non sono nessuno che parli di successo perché proprio potresti chiederlo a qualcun altro cos'è il successo però no, poi interpretare un ruolo così mi fa capire che forse non è il caso di farsi prendere dal successo Grazie, carismatico, modesto, insomma grazie in bocca al lupo Andrea Crepi, grazie, grazie mille